E' sempre crisi ma un po' meno grave. Si può riassumere così la situazione delle costruzioni edili in Veneto. Gli investimenti nell'ultimo anno sono in crescita dello 0,3% che dovrebbe raggiungere il 2% nel 2018 ma si registra un andamento negativo per le opere pubbliche. I fondi ci sono ma i cantieri non partono. La spesa dei comuni si è ridotta nel 2017 del 21% ed un ulteriore 8% nei primi mesi di quest'anno. Dall'inizio della crisi il calo è stato del 47%. Il governo deve semplificare le regole e far aprire i cantieri. Un paese che vede che il proprio stato non investe e non riesce a fare le opere pubbliche ovviamente dà un segnale negativo al cittadino. Il pubblico ha un ruolo fondamentale in questa regione perché ci sono troppe risorse che non sono state spese e che non si sono trasformate in cantieri e in opere. A Padova sono cresciute le compravendite di immobili dell'8% più in provincia che in città e i mutui per le famiglie hanno avuto un'enorme impennata di oltre l'80%. Anche l'occupazione dopo i 104 mila posti di lavoro persi si è stabilizzata. Dopo anni e anni di perdita di posti di lavoro ricordo che abbiamo perso oltre 100 mila dipendenti e oltre 12 mila imprese solo nel Veneto in questi dieci anni di crisi. Credo che si possa dire che il trend si è fermato. Ora a trainare il settore dell'edilizia sono gli interventi sui capannoni e la ristrutturazione delle case private grazie agli incentivi fiscali.